Si tratta di una missione dell'SS, della massima segretezza. Tutto ciò che deve sapere è che il carico va consegnato nel luogo concordato. La vita continua, non per tutti. La gente ha paura. Finge di non vedere quello che le succede sotto al naso. L'Ispettore Duval mi ha detto che ha delle informazioni. Ebrei, gli aiuto una tedesca. Chi è? Devi liberarti di Forster. Prima o poi lui si vendicherà. A volte è così che vanno le cose. Consegnando quel giocattolo agli americani con le istruzioni per il degrettaggio, la guerra finirebbe prima. Ma fermato prima che raggiunga le acque territoriali americane. C'è una cosa che ho imparato. La guerra rivela... Allarme! ...la natura di un uomo. Allarme! 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 Poss harden. Allarme! Allarme! L'ag bereits! Vani!